Per Baudelaire la critica deve essere parziale, appassionata, politica, vale a dire condotta da un punto di vista esclusivo, ma tale da aprire il più ampio degli orizzonti. Qual è lo stato della critica attuale in Italia sull'arte e sull'architettura? Quella che ha chiuso tutti gli orizzonti? La critica sta in una situazione molto precaria perché non ha materia per esercitarsi. Noi viviamo una crisi profonda dopo la generazione dei maestri in architettura, il movimento moderno per le arti figurative, eccetera. Adesso stiamo proprio navigando nell'assenza di senso, il non senso che domina tutto quanto. Per cui innanzitutto c'è l'oggetto della critica, l'arte che sta venendo meno, se non addirittura venendo meno. Io sto preparando un saggio che si chiama Arte contemporanea, un riesame e il sottotitolo, a meno di non cambiare idea, dovrebbe essere Dalla rivoluzione all'indifferenza. Cioè quest'arte contemporanea che è partita con l'idea di cambiare il mondo, adesso invece è diventata così priva di senso comune che la gente si disinteressa completamente e ha trasferito il senso estetico che è innato, la fruizione estetica, in altre cose, la televisione, la musica dei giovani, questi concerti affollatissimi, eccetera, che ovviamente non hanno nulla a che fare con le vecchie vie delle arti figurative. C'è un brano molto bello tratto da un suo libro, Il Gusto, del 2010, che dice Ho notato che fino a pochi anni or sono il pubblico delle mostre d'arte poneva agli addetti ai lavori, talvolta maliziosamente, la domanda che significa, riferendosi alle opere e alle tendenze. Oggi, anche quando entra in una sala d'esposizione, non chiede più nulla, fingendo di aver capito tutto da solo o di aver raggiunto una saggia indifferenza. Cosa è successo? Lei dice, è bene aver citato questo brano, perché è proprio quello che penso. È successo che la gente prima trovava, nell'arte specie del passato, non quella contemporanea, trovava un appiglio di una sua attitudine. Per esempio, nell'arte del passato c'era qualcosa tratta dalla natura, la Mimesi, qualcosa tratta dall'architettura, qualcosa tratta dalla teoria dei colori, qualcosa tratta dal racconto letterario, qualunque cosa, le storie dei santi, le storie dei regnanti, eccetera. Allora, le persone di varia cultura trovavano un elemento che gli dava loro la gioia, la soddisfazione di capire l'opera d'arte. Con l'arte contemporanea, prima della fase, diciamo, assolutamente priva di senza attuale, ma dico, l'arte contemporanea di quando io ero giovane, o ancora prima, negli anni 20 e 30, ha eliminato questo codice multiplo che raccoglieva varie tendenze, varie pulsioni, eccetera, e si è specializzata. Allora, i cubisti si sono specializzati nel tradurre il mondo in geometria, i futuristi nel tradurre la realtà secondo il dinamismo, l'espressionismo secondo la visione di un sentimento espresso con tutta la gravità del caso. Allora, la gente, per capire queste varie tendenze, doveva entrare nel codice di ciascuna delle tendenze, mentre in precedenza c'era il codice multiplo. Allora, ecco che, da che la massa delle persone poteva aderire, ognuna per un verso, all'arte, questa massa si è ridotta a pochi specialisti, appunto, chi è tifoso di una tendenza, chi di un'altra, eccetera, ma si è perduta questa coralità che aveva prima le arti figurative. Continua a scrivere, contribuisce all'indifferenza che attualmente il pubblico nutre verso l'arte la vera o presunta mancanza di abilità da parte degli artefici. Certo, quando si dice questa cosa è fatta ad arte, vuol dire che è fatta nella maniera più perfetta possibile, quindi questo concetto di arte, così come si riteneva nel mondo classico, come tecnè, era un'attitudine a far bene le cose e quindi c'era questo apprezzamento da parte del pubblico di queste qualità emergenti dal prodotto. Ora, queste qualità, dall'informale in poi, non si sono più verificate, perché io, per esempio, ho simpatia per Pollock, ma non posso, capisco perfettamente che il solito geometra che si tira in ballo in questi casi, oppure il ragioniere non può apprezzare il fatto che Pollock facesse cadere macchie di colore sopra una tela, e per lui è una cosa assolutamente priva di abilità. Quindi per cercare oggi l'abilità nell'arte contemporanea bisogna essere super specialisti, cioè capire che anche in quel dripping ci vuole una certa abilità, cosa che a volte esiste, a volte non esiste affatto perché l'abilità manca. Noi siamo arrivati ad alcune tendenze dell'arte contemporanea che hanno reclutato coloro i quali non sapevano dipingere nel senso accademico, mimetico, cioè proprio il negato al disegno. Questo è diventato un maestro. E quindi sempre da qualche parte ho scritto la storia dell'arte affidata al brutto. E' il brutto che fa la storia dell'arte. E' il brutto che fa la storia dell'arte.